Allora arriviamo alla quarta parte dedicata più specificamente alla privacy nella didattica a distanza, tema caldissimo, tema nuovissimo su cui quindi anch'io vado un po' a sentimento nel senso che non c'è letteratura solida su questo tema, non sono usciti commentari, libri, non ci sono sentenze, quindi noi giuristi spesso per capire come gestire una situazione guardiamo la cosiddetta giurisprudenza, per adesso non c'è nulla di concreto e di strettamente legato alla didattica a distanza perché è un fenomeno che esisteva già prima ma prima era una nicchia, era una soluzione che veniva utilizzata in alcuni casi, adesso è diventata la norma in virtù o forse per colpa potremmo dire di questa emergenza storica che nessuno si sarebbe potuto immaginare. Quindi i riferimenti che vi darò saranno più che altro basati sulle indicazioni fornite dal garante privacy in questi ultimi giorni, potremmo dire in queste ultime settimane, perché vedete che i provvedimenti sono della fine di marzo e di aprile, queste frequently asked questions di aprile, quindi più di così non saprei cosa dirvi, però diciamo che già qua c'è non poco, nel senso già qua ci sono delle indicazioni abbastanza interessanti. Vedete che il primo riferimento del 26 marzo è un provvedimento del garante chiamato la didattica a distanza prima indicazioni, vi ho messo il link al provvedimento integrale e poi c'è il link a una versione sintetica, ce li ho qui, ce li ho già aperti, se vedete, allora, questa è la versione sintetica e questa è, non questo, scusate, eccolo qua, era il primo, scusate. Questo è il provvedimento integrale, quindi didattica a distanza, vedete, provvedimento numero 9300784, che è il numero di protocollo che utilizza il sito del garante, pubblicato il 2603, è una tipologia linea guida, quindi è un'indicazione garante nella riunione considerato, visti, 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 ritenuto, ritenuto, considerato, ritenuto, in tutto il classico preambolo, e approva il seguente documento, adotta ai sensi del questo documento denominato didattica a distanza prima indicazioni come allegato, quindi questo è l'atto normativo con le norme, vedete, insomma, sono 5 articoli, nulla di così sconvolgente, li potete tranquillamente leggere anche in questa forma, per chi invece preferisse una versione un po' più sintetica, c'è questo documento che è uscito pochi giorni dopo, Roma 30 marzo, infatti l'hanno intitolato Prime istruzioni per l'uso. E poi, come vi ho detto, scusate, torno alla slide, poi c'è nota istituzionale in tema didattica a distanza al ministro dell'istruzione, al ministro dell'università e ricerca, al ministro del pari opportunità, cioè queste sono delle sorte di, cioè non è rivolto al cittadino, agli utenti, ma è rivolto, sono indicazioni rivolte agli altri ministeri che devono comunque prendere a loro volta dei provvedimenti su questo tema, e quindi il garante privacy, in quanto ente, diciamo, autorità non politica, dà delle indicazioni, non è che prende delle decisioni applicative, quindi dà delle indicazioni, e si è permesso appunto di scrivere questa nota istituzionale ai tre ministri principali e ai competenti in materia, che è questa nota istituzionale del presidente dell'autorità garante Atonello Soro alla signora ministro di istruzione, alla signora ministro dell'università e della ricerca e alla signora ministro per l'epare opportunità della famiglia, in tema di didattica a distanza. Illustrissimi ministri, quindi qua c'è un po' un richiamo, la parte interessante, insomma... Dov'è? Volevo zoomare... No, cioè è più, come vedete, una raccomandazione, cioè la corretta gestione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività didattica a distanza rappresenta in questo senso il presupposto quantomai indispensabile per rendere il digitale una risorsa straordinaria per la promozione dei diritti, quello dello studio in particolare al riparo da rischi di abuso, di abusi e violazioni. Quindi, nell'intento di fornire a scuole, a tenei, studenti e famiglie, indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fine di date, ci garanta approvato uno specifico atto di indirizzo, che è quello che abbiamo visto prima, che poi vi riprendo nelle slide, ricognitivo delle implicazioni più importanti nell'attività formativa a distanza sul diritto a protezione dei dati personali. Con l'auspicio che l'allegato atto possa fornire un supporto, poi insomma demanda ai ministri. Nell'altra, in un altro provvedimento, però vedremo che c'è stata una tirata d'orecchie il 4 di marzo, perché si è accorto che il ministero, soprattutto l'istruzione, si è un po' mostrato inerte nel raccogliere alcuni suggerimenti. Quindi, tornando alle slide, abbiamo poi le Frequency Ask Question, che sono, sostanzialmente riprendono gli stessi concetti dei due provvedimenti del 26 e del 30 e li trasformano in domanda risposta, anche lì davvero a prova di ragazzino di scuola media, cioè potete fruirle anche voi in modo autonomo, senza particolari preoccupazioni, necessità di appoggiarvi a uno specialista dell'argomento e vedete, in materia di emergenza sanitaria, ha fatto una pagina in cui ci sono le domande e risposte, anche in altri ambiti, vedete, parla di ricerche mediche, sperimentazioni cliniche, qua c'è quello sul trattamento dati nel contesto scolastico nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Quindi non parla solo e unicamente di didattica a distanza, queste Frequency Ask Question, queste domande con risposte, riguardano ad esempio anche l'attività amministrativa tipica degli uffici oppure lo smart work, il lavoro agile a distanza fatto dagli amministrativi di una scuola, quindi in tutti quei casi in cui non era strettamente necessario recarsi negli uffici c'era un'indicazione per stare a casa e quindi il garante si è occupato anche di rispondere a quesiti di questo tipo. Tutte queste cose le ho comunque già condensate nelle slide, le cose più interessanti. Iniziamo a vedere il discorso della base giuridica, ve l'ho già anticipato, qual è la base giuridica del trattamento per fare attività di didattica a distanza? Allora, dice il garante, tutte queste slide sono dei copie e incolla dei provvedimenti che vi ho detto prima, quindi la fonte è quella, dice che le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati anche relativi a categorie particolari di dati, intende, quindi quelli cosiddetti sensibili, dati di insegnanti, alunni, anche minorenni, genitori e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario. Quindi non è che ci sia una particolare necessità di chiedere un consenso, perché infatti si fa riferimento alla lettera E del paragrafo 1 dell'articolo 6 del GDPR, quello che abbiamo già letto prima, secondo cui il trattamento, cioè la base giuridica sta nel fatto che il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Quindi abbiamo chiarito la questione non da poco della base giuridica del trattamento. È un duplicato, c'era un testo sul monito del garante che ha tirato un po' le orecchie, al ministro, dopo vi faccio vedere in che senso. Quindi serve o non serve il consenso? No, come conseguenza diretta del fatto che si utilizza quella base giuridica di trattamento, che era quella appunto della lettera E, ci dice che non serve il consenso di alunni, genitori, insegnanti per quell'attività. Quindi gli istituti scolastici possono trattare i dati anche relativi a categorie particolari di insegnanti, scusate, è scritto sempre male perché anche relativi a categorie particolari, virgola dovrebbe essere, perché le categorie particolari sono dei dati, non degli insegnanti. Quindi gli istituti scolastici possono trattare dati anche relativi a categorie particolari degli insegnanti, degli alunni, anche i miei orenni e dei genitori, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla didattica a distanza. Quindi non è che la didattica a distanza abbia cambiato la base giuridica, la base del trattamento. Rimane, rimaniamo sempre nell'ambito, nel solco di quella già citata prima. Peraltro, sottolinea in questa faculty as question, il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro. Quindi dice, inutile insistere troppo sulla questione del consenso perché comunque in generale è un'attività che viene fatta dalla scuola ma anche più ampio in ambito pubblico nel contesto del rapporto di lavoro è di altro tipo la base giuridica, non tanto nel consenso. Scelta, ecco così arriviamo un po' alle domande che avete fatto voi prima. Scelta e regolamentazione degli strumenti per la DED, no? Quindi come una scuola può scegliere un servizio per la didattica a distanza senza incappare in questioni di privacy? Allora dice, il garante privacy ci dice che nella scelta, nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza, scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati. Questi principi, non li abbiamo visti prima, avremmo dovuto trattarli nella parte 2, quella generica sulla privacy. vengono chiamati principi di privacy by design e privacy by default, cioè due principi davvero fondanti del GDPR. Cioè il GDPR invita i titolari dei trattamenti e dei dati personali a prevedere la privacy come concetto, diciamo come obiettivo principale, obiettivo generale da raggiungere by design, cioè già nella progettazione della piattaforma e by default, cioè la base deve essere sempre la massima ricerca della privacy e solo come eccezione utilizzare i dati personali per altre attività, quindi privacy by default, privacy by design, utilizzando anche qua una dizione inglese che in effetti è più efficace. Non è necessaria la valutazione di impatto. La valutazione di impatto è un adempimento che i titolari dei trattamenti e i dati personali devono svolgere sempre in virtù di una norma contenuta nel GDPR che non vi ho mostrato, perché se no avremmo dovuto fare un corso di 4 ore, però appunto dovete tenere presente che la valutazione di impatto è uno degli attempimenti che in alcuni casi particolarmente critici il GDPR richiede ai titolari dei trattamenti e qua dice garante che non è necessaria, quindi alleggerisce le scuole anche di questa valutazione. Come capite queste norme interessano più che il docente, interessano il dirigente, cioè mentre il diritto d'autore tocca nello specifico il docente perché è un diritto d'autore e quindi riguarda l'autore principalmente, le norme sulla privacy in realtà riguardano più il dirigente che è colui che prende le decisioni in quanto appunto titolare del trattamento. Ok? So che adesso voi direte ma allora quindi a me non me ne frega nulla della privacy, cioè non è così, dovete saperlo e dovete capire quali sono i problemi perché se no non avremmo messo in piedi un corso come quello di oggi. Però effettivamente vedete per come sono scritte le norme, per come sono impostati questi principi riguardano più che altro il titolare del trattamento e non tanto il docente che è invece parte del, diciamo, è più l'interessato, cioè il docente è a sua volta un cittadino che presta la sua attività su una di queste piattaforme. Però anche se siete interessati dovete sapere come funziona il meccanismo, come funzionano tutti i principi della privacy che stanno dietro queste attività e quindi anche se non siete poi coloro che prendono le decisioni in quanto titolare del trattamento e siete dall'altra parte è corretto sapere, avere contesto di questi principi. Quindi scusate stavamo dicendo non è necessaria la valutazione d'impatto prevista dal GDPR per i rischi, per i casi di rischi elevati. Se il trattamento dei dati effettuati dall'istituzione scolastica universitaria per quanto relativo a minorenni o ai lavoratori non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Qua, insomma, potremmo in effetti aprire un capitolone e dire, ma insomma, a seconda del tipo di piattaforma, se utilizza una piattaforma che fa appunto attività di profilazione anche a tipo commerciale o traccia la posizione geografica di chi le utilizza, allora in realtà si aumentano i rischi, non è solamente un'attività, non è la replicazione in forma digitale a distanza della stessa cosa, dell'attività che facevo in aula. Eh sì, però appunto dice, il garante ci dice che non è necessario a priori, poi bisogna valutare caso per caso se davvero si verificano situazioni che aggravino i rischi nel trattamento del dato personale. Il ruolo dei fornitori di servizi, cioè dei vari, quelli che forniscono diciamo alle scuole le piattaforme, che forniscano il registro elettronico, che forniscono la piattaforma, che ne so, Google o altro simile fornitore, per fare didattica a distanza. Cosa ci dice in questo caso il garante? Ci dice che se la piattaforma prescelta comporta il trattamento dei dati personali, gli studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o con altro atto giuridico. Quindi la scuola deve instaurare un rapporto formale, formalizzare quindi un rapporto giuridico con un contratto o con un altro atto, con un'altra forma di incarico, con il fornitore. È il caso ad esempio del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e quindi vedete si crea, quello che avevamo detto prima, un rapporto tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento. La scuola rimane titolare del trattamento, il fornitore del registro elettronico, quindi l'azienda di informatica, l'azienda di tecnologia che vi vende la licenza, che fornisce l'accesso alla piattaforma, diventa responsabile del trattamento, ovvero nel gergo inglese data controller rimane la scuola, data processor diventa il fornitore del servizio. Nel caso invece in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse, siamo qua, che erguino servizi più complessi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, evitando ad esempio geolocalizzazione e social login. Quindi non è che io non posso usare piattaforme generaliste, ma devo settarle, devo impostarle in modo tale che facciano lo stretto necessario per fare didattica a distanza ed evitino quindi attività ad esempio di geolocalizzazione, grande classico, di attività di profilazione, non mandino pubblicità oppure non leggano durante la mia, non so, ipotizziamo se nella chat, nella chat del corso di oggi comparissero degli, non so, uno di voi scrive una parola che identifica che lui sta a Chieti e sotto gli arriva la pubblicità con scritto Ah, sai a Chieti, cerchi un noleggio di auto? No? Ecco, quella roba lì è assolutamente da evitare perché vuol dire che abbiamo in qualche modo consentito al gestore della piattaforma di fare una profilazione a scopo commerciale degli utenti. Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno quindi assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Vado avanti, sempre sullo stesso argomento, prosegue il garante, dice quindi è peraltro inammissibile il condizionamento da parte dei gestori delle piattaforme della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione da parte dello studente e dei genitori del consenso al trattamento dei dati connesso a fornitura di ulteriori servizi online, non necessaria l'attività didattica, cioè non devo in qualche modo costringere lo studente o il genitore dello studente a sottoscrivere servizi che non sono strettamente legati all'attività didattica, cioè se questa piattaforma fa anche altro, e non è vietato, queste piattaforme possono fare anche altro, però non deve essere obbligatorio prendersi il pacchettone, cioè non deve essere forzata l'acquisizione di tutto il pacchetto, lo studente deve poter dire no, io sottoscrivo solamente la parte, accetto solamente la parte relativa alla fornitura di servizi di didattica, tutto il resto rimane separato e non deve essere condizionato, perché sennò in quel momento se io metto tutto all'interno di un unico consenso, che è molto comodo, come quando andate in un hotel e vi dicono ma sì, qui c'è il modulo sulla privacy, lei metta quattro croci su tutto, poi lo compiliamo noi, col cavolo, perché poi se voi andate a leggere queste quattro croci, di queste quattro ce n'è una che dice fornitura a soggetti esterni per attività promozionale e commerciale, quindi quella lì va sempre barrata come no, poi è chiaro che è più comodo, più veloce mettere una crocetta su tutto e poi lascio a che ci pensi quello dell'hotel, e no, qui la stessa cosa, cioè dobbiamo evitare che ci venga messo, ci venga sottoposto, che venga sottoposto agli studenti e ai genitori, un unico form da compilare in cui tu metti una lista di crocette e quindi accetti tutto, perché se non metti tutte le crocette non ti fa andare avanti, se non ti fa andare avanti stai forzando, cioè loro stanno, vedete, forzando il consenso, cioè il consenso non sarebbe, lo dice qua, il consenso non sarebbe infatti validamente prestato perché appunto indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultrone rispetto a quelle proprie della didattica a distanza, chiaro? Il registro elettronico, ecco qua c'è stata un po' una tirata d'orecchi del garante privacy al ministro dell'istruzione, perché cosa è successo? Cioè il 4 maggio, diciamo che il problema della didattica a distanza, questo tsunami della didattica a distanza forzata dall'emergenza sanitaria ha fatto emergere problemi che c'erano, non è che non ci fossero prima, c'erano già prima, ma erano rimasti sopiti, latenti potremmo dire. E ad esempio uno di questi è quello relativo alla normativa del 2012 che ha introdotto l'utilizzo del registro elettronico, ma poi la mancanza di provvedimenti ministeriali che hanno diciamo coperto altri aspetti e rimasto invece ancora indefiniti. Vediamo cosa dice il garante, cioè questa è una lettera pubblica al ministro dell'istruzione, vi ho messo qua il link, quindi insomma c'è anche una delicatezza politica, insomma il garante che sta tirando le orecchie a un ministro. Quindi l'inclusione nel registro di un nuovero assai rilevante in termini quantitativi e qualitativi di dati personali anche di minorenni esige l'adozione di tutte le cautele idonee a evitare o quantomeno minimizzare i rischi di esfiltrazione, trattamento illecito o anche solo alterazione dei dati stessi. Perché? Perché sono state registrate troppe volte situazioni in cui le password erano gestite in modo improprio, il registro elettronico rimaneva aperto nel computer di aula e i vari docenti riuscivano a vedere quello che avevano fatto gli docenti delle ore precedenti, gli studenti attraverso artifici non particolarmente raffinati riuscivano a risalire alle password e a manomettere i voti, cioè situazioni del genere non particolarmente piacevoli. A tal fine quindi sarebbe innanzitutto necessario provvedere al perfezionamento della disciplina di settore adottando segnatamente il piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, dei personali studenti e famiglie che avrebbe dovuto, eccola la tirata d'orecchie, che avrebbe dovuto essere predisposto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge del 2012 alla quale invece, alla quale si deve l'introduzione di tali forme innovative di rendicontazione dell'attività, cioè del registro elettronico. Quindi cosa è successo? Purtroppo come succede anche in altri campi, anche nel mio, nel diritto d'autore, arriva una legge che dice queste sono le regole, poi faremo un decreto attuativo oppure poi adotteremo un piano entro 60 giorni, poi in quei 60 giorni cambia il ministro, cambia la maggioranza in Parlamento, salta tutto, si dimenticano di tappare il buco, cioè quelli che vengono dopo si occupano di altro, che reputano più urgente e rimane in sospeso. Qua in effetti il buco è grave perché sono otto anni che è entrata in vigore questa legge e che dovrebbe essere adottato un piano, questo piano per la demelitalizzazione, quindi insomma sta richiamando l'attenzione del ministro perché dice adesso si poteva far finta di nulla fino adesso, ma adesso che invece siamo arrivati in una totale passaggio dalla didattica in aula alla didattica a distanza non si può più far finta che non ci sia il problema e bisogna prendere questo provvedimento. Perché in effetti dice il garante che in assenza di direttive specifiche gli istituti scolastici hanno sinora provveduto ricorrendo a soluzioni tecnologiche offerte dai vari fornitori non sempre caratterizzate da garanzie adeguate, in termini di protezione dei dati personali e talora notevolmente vulnerabili. Ecco che qua si vedete, qua entra in gioco l'aspetto privacy in una versione più legata alla sicurezza, quello che dicevo prima, quindi riservatezza ma anche su un piano di garanzie adeguate, cioè di standard di sicurezza adeguati per evitare che sfuggano dati che diventino vulnerabili di queste piattaforme. Quindi il garante dice, insomma, fino adesso abbiamo scherzato, però adesso non si può più scherzare perché è già più volte emerso il problema che le scuole in mancanza, vedete, in assenza di direttive specifiche ogni istituto si è un po' gestito da solo, ha sfruttato la sua autonomia e si è rivolto ai vari fornitori, solo che tra questi fornitori a volte c'era gente che non garantiva sufficiente qualità e sicurezza. La crescente rilevanza assunta dagli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, soprattutto adesso in questi mesi, tuttavia impone di riservare maggiore attenzione alle questioni inerenti, la sicurezza, eccola qui, e la protezione dei dati personali fidati a tali piattaforme. In questo senso il registro elettronico fornito da soggetti già designati responsabili del trattamento potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare almeno una parte significativa dell'attività didattica a distanza anche, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme e altre che oltretutto non sempre si limitano all'erogazione dei servizi funzionali dell'attività formativa ed ecco che abbiamo tirato fuori il problema. Cioè sostanzialmente dice il garante che se ci fossimo occupati seriamente della questione registro elettronico, il registro elettronico sarebbe potuto anche diventare lo strumento elettivo, cioè fare buona parte dell'attività anche ad esempio mettere a disposizione dei link, dei video degli studenti attraverso lo strumento del registro elettronico. Ma visto che alcune di queste piattaforme funzionano poco, funzionano male, non garantiscono sicurezza, allora le scuole o i docenti per loro iniziativa autonoma si sono rivolte a piattaforme invece più generaliste, classico esempio forse poi eccessivo, però creo il gruppo Facebook della classe, quindi utilizzo Facebook perché Facebook è più comodo, lo capisco come esigenza, però il problema di Facebook è questo, che non si limita all'erogazione dei servizi funzionali dell'attività formativa, anzi tutt'altro, quindi Facebook fa profilazione degli utenti. Quindi se io costringo gli studenti a registrarsi su Facebook per seguire una lezione sto in effetti, mi sto assumendo un rischio legale perché è una cosa che non si dovrebbe fare, non si potrebbe fare. No, diverso sarebbe se Facebook avesse una sezione Facebook dedicata alla didattica, ma Facebook non ce l'ha e quindi se io creo artificialmente un gruppo in cui dico che faccio solo didattica, però comunque sto utilizzando una piattaforma che si fa i cavoli suoi, si fa gli affari suoi con i dati dei suoi utenti, fra cui anche quelli dei miei studenti. Tolto anche il problema che Facebook in teoria non è accessibile a studenti con età inferiore ai 13 anni, cioè una delle regole di Facebook è quella che non dovrebbero iscriversi persone sotto i 13 anni, anche se poi viene anche questa più volte violata e ignorata. Però ecco, interessante questo dibattito che è molto recente perché vedete 4 di maggio insomma il garante privacy ha dato una tirata d'orecchi al Ministro e vedremo come ne usciremo. Questo è quanto, nel senso che chiaramente come vi ho detto l'argomento è molto ampio, però in un'ora e tre quarti siamo, guarda, siamo meno due minuti, quindi siamo perfettamente sul gong. Confido, come vi ho detto, vi ho già mandato i riferimenti, che vogliate rimanere in contatto con questi argomenti anche per dopo, cioè al di là della formazione per avere l'attestato e questo evento di oggi è sicuramente meritorio e vi ringrazio per essere stati con noi in questa occasione, ringrazio anche l'istituto comprensivo 4 di Chieti per averla lanciata perché ci voleva davvero.